Fino al prossimo 8 dicembre l'attesa del Natale sarà più colorata grazie alla prima edizione del festival Suoni, Colori, Passioni. Il progetto ideato da Vito Mercurio e partito ieri mattina con la conferenza di presentazione vedrà la partecipazione di Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, del Dottor Antonio Nicola Setaro e Concetta Farao. Il programma vede tantissimi eventi con l'arte e la musica protagoniste. Sabato 7 dicembre, primo appuntamento con la musica presso il Museo Diocesano con il quartetto d'archi sincronie a partire dalle 19.30. Nella settimana successiva, sempre alle 19.30, Spazio al Sax di Gerry Popolo, esibizione del famoso musicista, si svolgerà nella sala oratorio. Si proseguirà con gli appuntamenti in programma sabato 21 dicembre presso la chiesa San Giovanni Bosco con Baroc, dal barocco alla musica rock, con i chitaristi Corrado e Marco Sfogli. Infine, il prossimo 4 gennaio alle 19.30, ultima serata all'insegna della cultura e dell'arte della prima edizione del Festival di Teggiano. Facciamo la musica perché intendiamo fare linguaggio di arte, linguaggio di qualità e quindi non potevamo assolutamente escludere il teatro oppure l'arte visiva. Allora abbiamo portato questa mostra che girerà l'Europa in pratica. Allora abbiamo portato questa mostra che girerà l'arte visiva. Grazie.